Tiriamo un sospiro di sollievo dalle analisi dell'ARPAM, non sono emerse anomalie. L'assessore all'ambiente Barbara Brunori oggi è tornata di fronte all'ingresso della profiglass a Bellocchi di Fano per rassicurare la cittadinanza. Infatti, dopo l'incendio avvenuto nell'azienda il 13 aprile scorso nel reparto dei rottami di alluminio, sono stati eseguiti gli accertamenti per indagare sull'impatto ambientale collegato al rogo e alla colonna di fumo che si era alzata su un quartiere. Fortunatamente gli esiti sono tutti sotto controllo e non ci sono dei parametri preoccupanti, anzi è stato escluso il pericolo, perché nello stesso momento in cui è accaduto l'incendio come ufficio ambiente ci siamo da subito azionati nel chiamare ARPAM che tempestivamente è venuto e ha messo due campionatori a fiale di carbonio per quanto riguarda le sostanze volatili in due tipi di controllo. Il primo, nello stesso giorno dell'incendio dalle 10 e dalle 7 della sera alle 10 e successivo dalle 10 della sera alle 10 del giorno dopo. Da entrambi i campionamenti per quanto riguarda le sostanze organiche volatili non sono emerse criticità, nel senso che sono tutti parametri che all'interno di una zona industriale come questa naturalmente sono parametri accettabili e nei limiti. Inoltre, prosegue l'assessore, abbiamo analizzato le acque che scorrono in mezzo allo stabilimento e nelle vicinanze le indagini sono state eseguite sia sul fosso di Carrara che raccoglie le acque meteoriche sia su una parte del canale Albani, ma anche qui non sono emersi valori critici. Per quanto riguarda anche la centralina dell'aria di via Filippini, quella che rileva le polveri sottili, naturalmente quella è stata una centralina, mi sento di dire, non interessata in quanto, ahimè, il vento nel caso dell'incendio spirava verso nord e quindi non è riuscita a registrare i dati dell'incendio perché era esattamente dalla parte opposta, tanto che tutti i dati delle polveri sottili erano nella norma e non hanno subito nessun tipo di variazione.